Elettra Lamborghini, massacrata da Selvaggia e Lucarelli, perché sei il coronavirus della musica? No, Elettra Lamborghini non piace a tutti. L'erdì in gara al Festival di Sanremo Vete Vete, condotto da Amadeus con costruito a successo, continua a far discutere, non solo per il look o per il fatto che si sia prodotto in un twerking, piuttosto scadaloso del palco d'Ariston, che infatti ci mette in dubbio anche le sue capacità artistiche. Per esempio, Selvaggia e Lucarelli, attentissima durante questo Sanremo Vete Vente, la quale ha riservato ad Elettra un Twitter corsivo in occasione delle performanze alla serata dei duelli, dove si è esibita insieme a Mischetta. Ecco il cingueteo di Selvaggia, la Lamborghini e il coronavirus della musica. Le si avvicina Mischetta e stona pure lei, durissima come sempre.